ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare da damo live cell 0 e guai mi srl ultimo aggiornamento 20 maggio 2020 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso descrizione e caratteristiche avvertenze ingredienti apporto nutrienti immagine prodotto a cosa serve da damo live cell 0 è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per la depurazione è commercializzato in italia dall'azienda e guai mi srl informazioni commerciali titolare e guai mi srl concessionario e guai mi srl categoria di appartenenza integratori per la depurazione forma farmaceutica capsula confezioni da damo live cell 0 90 capsule da 530 mg 47,7 c indicazioni funzioni depurative dell'organismo utile per favorire il metabolismo dei lipidi azione antiossidante emolliente lenitiva sul sistema digerente modalità d'uso si consiglia l'assunzione di due capsule al giorno descrizione e caratteristiche integratore alimentare a base di cavolo per sostenere le funzioni depurative dell'organismo e cipolla indicata per favorire il metabolismo dei lipidi con frutto di melograno ad azione antiossidante e gombo che spiega un'azione emolliente lenitiva sul sistema digerente avvertenze non superare la dose giornaliera consigliata tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a tre anni gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata di uno stile di vita sano non somministrare ai bambini al di sotto dei tre anni di età la materia prima vegetale deve essere bollita oppure idratata e fatta rigonfiare non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide conservare ben chiuso in luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di luce e calore la data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra da consumarsi preferibilmente entro fine vedi timbro sulla confezione ingredienti cavolo brassica oleracea l giovani foglie agenti di rivestimento esterno capsula in idrossipropil metil cellulosa cipolla allium cepa l giovane bulbo gombo abel moscus esculentus l moenck frutti azuchi vigni angularis wild o vie h o asci giovani semi arabino galattano melograno punica granatumelle frutti prezzemolo petroselinum crispum mille fus foglie estratto e polvere di crusca di riso agente anti agglomerante biossido di silicio apporto nutrienti contenuti medi per dose max giornaliera 2 cps cavolo foglie 350 mg cipolla bulbi 175 mg gombo frutti 75 mg fagiolo azuchi semi 50 mg melograno frutto 50 mg prezzemolo foglie 50 mg arabino galattano 50 mg fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato